E benvenuti ragazzi, io sono CD17 e 8 ragazzi di Oli vivono il primo episodio di Fortnite News inerente, corta inerente a fatti una risata su Fortnite con Joke Knight prodotto da Trevor Noah 7, 2, 20, 24, il team di Fortnite Vuoi fatto una risata? A partire da oggi puoi visitare il club comico Joke Knight L'isola Joke Knight prodotto da Trevor Noah è realizzata da Epic con UFN E quindi i mini set di 4 celibri comici stand up Accedi all'isola tramite la categoria da non perdere in scopri O con il codice ISLA, se vi interessa scrivetelo oppure da qualche parte Io vi ho detto intanto 6, 2, 9, 6, 7, 8, 2, 9, 6, 5, 2, 4 Prendi posto su Joke Knight E' ora di godersi e lo spettacolo Scegliti e guarda questi 4 comici che si alternano sul palco Matthew Brossard che è apparso su Comedy Central e Conan Marcia Bersky, comico e musicista che è apparso su Comedy Central e al Tonight Show con Jimmy Fallon Scott Seis, anche noto come Angry Retail Guy di TikTok Peter Lawson, finalista di America's Got Talent All'inizio dello spettacolo tu e il resto del pubblico potrete volare per scegliere a quale esibizione assistere Se non ci sono voti assisterete da alcuni estratti di tutte le esibizioni del Mega Medley Già che ci sei e non dimenticare di provare la modalità TV di Joke Knight Se la TV ti permette di avere lo stile di ripresa di un classico episodio di stand up comedy Le porte di Joke Knight sono aperte Accomodati per assistere alle esibizioni E adesso Dark Knight è stato prodotto da Trevor Noah Da Day Zero Productions E Mainstay Internment Seviluppato da Evil A Pictures Parolini Dipende da parole Comunque ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Se vi divertite il video ragazzi mi raccomando se è un bel mi piace Commentate e condividete Iscrivetevi al canale Attenete la campanellina Iscrivetevi al mio canale Whatsapp Quindi sul link di Clastro Di community YouTube E ragazzi Uscendete il vostro CD Dicete tutto Da ragazzoli Ciao